E' una nomina storica per l'Abruzzo. Non usa mezzi termini il governatore D'Alfonso per presentare il risultato di quella che ha chiamato un'azione politica e che ha portato alla nomina da parte della conferenza unificata Stato-Regioni-Città dell'architetto Gianluca Marcantonio, quale componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'organo di rango costituzionale si occupa di dare il placet finale ai progetti di opere pubbliche in Italia. Marcantonio, 45 anni, pescarese, è stato all'interno della task force creata da D'Alfonso per la mitigazione del rischio idrogeologico. Una nomina fortemente voluta proprio dal Presidente della Regione per avere un riferimento all'interno del Consiglio Superiore che conosca il territorio e sia in grado di snellire l'iter burocratico dei progetti infrastrutturali. D'Alfonso ha tenuto a precisare che Marcantonio dovrà fare gli interessi di tutti e cioè dell'intera conferenza unificata, ma è chiaro che all'architetto pescarese si chiede di essere l'anello di congiunzione per portare a un complessivo snellimento delle istruttorie che possono durare anche degli anni. È molto importante avere questa disponibilità di competenza poiché il Consiglio Superiore è il massimo organo della consapevolezza tecnica riguardante le trasformazioni del territorio. Noi utilizzeremo questa competenza e questa familiarità dal punto di vista della coincidenza con l'Abruzzo per tentare velocemente di risolvere tutte le partite aperte. Riqualificazione dell'operatività dell'interporto di Manopello, completamento storico della diga di Chiauci e dragaggio dei porti di Ortone e Pescara. Questi gli obiettivi di D'Alfonso e per i quali Marcantonio potrà lavorare all'interno del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Ed è proprio sull'abbattimento di parte della diga foranea di Pescara che il Presidente si è voluto soffermare. Siamo in attesa nei prossimi giorni di avere l'ultima validazione che riguarda la consistenza dell'aumento di carico idraulico fluviale una volta tagliata la diga foranea. Ci sono i soldi, c'è la procedura, c'è il contratto, c'è l'impresa, c'è l'urgenza. Abbiamo chiesto al Consiglio Superiore di stimarci qual è l'aumento del carico idraulico fluviale. Il 16 di settembre dovrebbe arrivarci l'ultimo foglio che ci dica di procedere. Ecco, in quell'organismo noi oggi abbiamo una persona che conosce le questioni abruzzesi.